Ha accolto l'invito ed è rimasto piacevolmente sorpreso il Vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, alla casa del quartiere di Borgo Roma, che ha visitato oggi, celebrando la Santa Messa alla presenza dei tanti anziani che quotidianamente frequentano il centro. Una struttura che offre servizi di tipo sanitario e socioassistenziale ad anziani non più completamente autosufficienti. Da auspicare che ci sia in tutti i quartieri di Verona, perché è davvero un bel rifugio per persone anziane che hanno desiderio di stare insieme, di stare fuori dalla propria abitazione dove sono anche un po' isolati, di trascorrere dal mattino fino verso sera in compagnia delle belle ore. Così mi hanno detto anche loro che sono molto felici e sanno trattarsi da fratelli con gentilezza, con cordialità. Qui hanno anche la possibilità del pranzo, di un po' di animazione anche culturale e ludica. Davvero una bellissima intuizione, una bella realizzazione, che non conoscevo ma che vale la pena di far conoscere. È una casa che accoglie con calore le 50-60 persone che ogni giorno si recano per utilizzare i vari servizi e per stare in compagnia, per aiutare così anche lo spirito, allontanando le eventuali ospitalità in una struttura di maggiore assistenza. Sono servizi diurni, quindi attività educative, il canto, leggere un articolo di un giornale e diverse varie attività, ma anche i riabilitativi, la psicomotricità, il fisioterapista. Quindi tutte queste, che non è il classico giocare a carta, questo si fa anche ma è una minima parte. La maggior parte delle attività sono anche attività impegnative. Quindi la terza età si può ancora dare e ricevere molto? La terza età possono dare moltissimo reciprocamente, proprio nello starsi insieme volentieri, nel sorridersi, nell'ascoltarsi, nel dirsi una parola, farsi anche una battuta, vivere nella serenità, insomma cercare di superare anche tutte le problematiche dei pensieri che rosicano l'animo. E invece stando insieme è più facile, certo poi la terza età diventa anche vissuta così. Un bel esempio per i ragazzi che sono abituati più che a guardarsi in faccia, a parlarsi direttamente con internet, con smartphone. Questi no, usano anche loro, smartphone lo usano, però in necessità. Se non sono capaci ancora di parlarsi. E qui vivono non nel bullismo, vivono nella semplicità della loro età. Però bisognosi gli uni degli altri, contenti di essere dono l'uno per l'altro. Oggi quindi è una bella occasione per stare insieme e la Quaresima sta terminando. Ci avviciniamo già alla Pasqua. È molto vicina la Pasqua, fra otto giorni la Pasqua va preparata. Va preparata soprattutto con senso di fede e di amore fraterno. Quando abbiamo messo insieme bene la fede autentica cristiana in Gesù che è morto e risolto per noi, nel mistero dell'amore trinitario di Dio, nella presenza di Maria in noi, e poi viviamo fraternamente da di noi, allora la Pasqua ha già compiuto i suoi effetti migliori nel nostro cuore. Lo auguro a tutti.